record di addetti delle imprese in Liguria al 31 dicembre erano quasi 500.000 con una crescita del 2,2% rispetto al 2022. Approvata all'unanimità la relazione annuale della Commissione regionale antimafia. Siglato un protocollo di intesa tra la Polizia di Stato e l'autorità di sistema portuale per il contrasto dei crimini informatici. 53 encomi per gli agenti della Polizia Locale, oggi la cerimonia per il 186esimo anniversario della Fondazione del Corte. Calciomercato Gregorio Tenco, Rock Jureskin e Adam Nagy, i tre nuovi acquisti dello Spezia Calcio. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova edizione del TLS Giornale. Incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere edile nel quartiere del Canaletto. Un operaio è rimasto ferito ad una gamba dopo essere stato colpito da una putrella che si è staccata da un macchinario di sollevamento. Immediati sono stati i soccorsi da parte del 118 che hanno trasportato l'uomo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. E gli addetti delle imprese in Liguria al 31 dicembre 2023 hanno raggiunto il record negli ultimi otto anni di 498.340 unità con una crescita del 2,2% rispetto al 2022, del 6% rispetto al 2021. Negli ultimi due anni l'aumento dei lavoratori dipendenti e indipendenti nella regione è stata di quasi 30.000 unità. Lo rivela un'analisi dei dati IMSS disponibili nel registro delle imprese delle Camere di Commercio che riguarda sia i lavoratori indipendenti titolari o soci di impresa sia i loro dipendenti esclusi i lavoratori pubblici. E' stata approvata all'unanimità la relazione annuale della Commissione regionale antimafia. Il Presidente Centi un lavoro articolato tra beni confiscati, possibilità di infiltrazioni nei grandi appalti, gioco d'azzardo e attività nelle scuole. Vediamo il servizio di Jacopo Cidale. Relazione annuale antimafia della regione Liguria, ieri il via libera in Consiglio. Sì, ieri abbiamo avuto l'unanimità sulla relazione annuale antimafia. Non è una cosa facile perché trovare l'accordo significa aver avuto la stima per quanto riguarda il lavoro fatto. Ci siamo occupati per quasi tutto l'anno del portare in fondo la legge sui beni confiscati che porterò in commissione il 13 di febbraio. Quindi praticamente ci siamo. È un lavoro lunghissimo perché quando si fa una legge bisogna curare ogni singola parola. Fatto in collaborazione con la Giunta, prima con l'assessore Benveduti, ora con l'assessore Piana. Conto di poter dare una legge sui beni confiscati alla mafia che sono tantissimi in Liguria entro la fine di febbraio e primi di marzo in modo da far uscire l'altro bando in maniera definitiva. Ecco, c'è una novità per quanto riguarda la Spezia? Sì, la novità è già in atto da diverso tempo per la verità. Cioè quando siamo arrivati abbiamo costituito la presidenza e ci siamo riuniti le prime volte. Dopo un 6-7 mesi di lavoro l'assessore Benveduti su nostra spinta aveva creato un bando a cui aveva partecipato anche il comune della Spezia per due beni. Uno in Piazza Chiodo e uno in Viale Mazzini. E ho visto che l'altro giorno l'amministrazione della Spezia giustamente vantava il risultato di averli ristrutturati entrambi appunto con i soldi della regione Liguria. È un grande successo non solo per l'amministrazione nostra ma anche per noi, anche per me come Presidente di Commissione, per l'assessore Benveduti perché finalmente c'è una legge e c'è stato un bando che si è occupato di tutti i beni confiscati alla mafia in regione Liguria e non solamente di quelli concentrati su Genova che a stento fino a quando siamo arrivati noi vedevano degli investimenti. Sono molto soddisfatto di questo. Aumenta in Liguria la presenza dei lupi ma non è un problema, anzi è un bene per l'ambiente e non crea pericoli per l'uomo. Il dato è emerso durante la conferenza di presentazione del bilancio annuale 2023 del lavoro dei carabinieri forestali, come ha spiegato il nuovo comandante regionale, il colonnello Carlo Chiavacci. Le attività che sono state svolte sono state finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati ambientali come i tagli boschini. E 53 encomi degli agenti della polizia locale che si sono distinti in servizio. Questa mattina in Sala Dante si è tenuta anche la cerimonia per la 186esimo anniversario della fondazione del corpo. Un momento anche per fare il punto sulla situazione dell'anno passato guardando anche alle prospettive future. Vediamo il servizio di Chiara Alfonsetti, le immagini sono di Davide Morina. Un momento per fare il punto della situazione dell'anno passato guardando anche alle prospettive future. Questi alcuni dei punti emersi nel corso della cerimonia del 186esimo anniversario dalla fondazione del corpo di polizia locale che si è tenuto in Sala Dante nel corso del quale sono stati consegnati 53 encomi. Chiaro che noi abbiamo voluto fare un investimento per tutelare lo sviluppo della città in termini turistici, in termini di qualità della vita dei nostri concittadini. Dopo il Covid la microcriminalità è esplosa in tutta Italia, soprattutto nelle periferie delle città più importanti. Noi stiamo cercando di contrastare tutti i tipi di illeciti, abusi in modo nuovo. La prospettiva è quella di proseguire e rafforzare il lavoro portato avanti fino ad oggi attraverso l'impegno quotidiano del nostro personale che in questi anni abbiamo rafforzato nel numero, nell'organizzazione operativa, nel nuovo professionale e nelle dotazioni tecniche. La polizia locale ha svolto e continua a svolgere quotidianamente un'azione fondamentale per la sicurezza, per la salute e per il decoro della città. Tra i dati messi in evidenza dal comandante Francesco Bertoneri al terzo anno di gestione del corpo di polizia locale della Spezia, la diminuzione dei sinistri stradali, una particolare attenzione ai diritti degli animali con la crescita del 15% delle segnalazioni a seguito dei controlli nei parchi e in città. Tra i dati in aumento però con il 22% in più rispetto al 2022 l'occupazione degli stalli per disabili. È stato un anno molto impegnativo sotto tutti i punti di vista per il nostro impegno operativo. Diciamo che l'impegno maggiore è stato sicuramente quello nel garantire la sicurezza della circolazione in città, tanto che abbiamo rilevato una diminuzione dei sinistri stradali e soprattutto una diminuzione del numero dei feriti che sono passati da circa 650 ai 370 dell'anno in corso. L'impegno poi è stato chiaramente a 360 gradi perché i nostri operatori si sono occupati di tutela ambientale, tutela del decoro urbano con oltre mille sanzioni per l'abbandono di rifiuti, 15 arresti per stupefacenti, per spaccio di sostanze stupefacenti, oltre 100 persone segnalate in quanto consumatori di stupefacenti all'autorità prefettizia e l'impegno è stato anche concentrato nelle ore serali per quello che riguarda la primavera, l'estate e anche l'autunno inoltrato per i servizi connessi alla movida cittadina dove abbiamo rilevato anche la vendita di alcolici a minorenni, abbiamo proceduto penalmente, abbiamo sanzionato e poi proceduto d'intesa con gli uffici comunali competenti alla sospensione di alcune autorizzazioni per arrivare addirittura alla revoca di altre per i casi più gravi. Il Comune della Spezia aderisce alla giornata nazionale delle vittime civili, delle guerre e dei conflitti nel mondo che si celebra il primo febbraio di ogni anno. Per conservare la memoria dei conflitti del passato e per richiamare l'attenzione sul dramma che vivono i civili di tutto il mondo coinvolti in guerre e in conflitti armati. La giornata quest'anno assume un particolare significato a causa del drammatico contesto internazionale. Questa sera torna come di consueto tamburo battente, ospite di questa serata sarà il sindaco di Bolano Alberto Battilani che risponderà a tutto campo alle domande di Riccardo Sottanis e Renzo Raffaelli. Vediamo il servizio. Sindaco, nove autovelox in un territorio abbastanza omogeneo tra Bolano, Follo e Vezzano. Fleximan ha colpito alla Spezia, ha colpito nel vostro territorio. Due autovelox sono stati distrutti o uno addirittura portato via. Cosa sta succedendo dalle vostre parti? C'è una contestazione in atto? No, diciamo una contestazione no. C'è una discussione su degli strumenti che poi sono box velox, non sono autovelox, quindi funzionano solo con il presidio delle forze di politica locale. Noi le abbiamo messe all'interno del centro urbano in un tratto di strada molto trafficato, dove ci sono velocità sostenute e dove ci sono stati molti incidenti. Ecco, Sindaco, lei ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili, cioè non si ricandiderà per un terzo mandato come Sindaco di Bolano. Lo fa tra l'altro nel momento in cui aumentano le indennità del Sindaco e quindi mi immagino è una scelta doppiamente coraggiosa. Però si è detto disponibile ad un altro ruolo politico, appunto in un altro ruolo a fare ancora politica. Cosa ha in mente? La regione, ad esempio, per la quale è stato già candidato nel 2020, se non sbaglio? No, vedremo. Le regionali ci sono tra un anno. Io ho detto che non avrei fatto il terzo mandato in tempi non sospetti oltre un anno fa, perché sono convinto in questi dieci anni di aver costruito un gruppo dirigente di amministratori che mi hanno affiancato, che sono in grado di fare molto meglio di me e possono anche avere, diciamo, possono... ed è giusto che facciano questa esperienza, che è una delle esperienze... Qual è il problema più grosso che lascia al suo successore? Problemi non ne lascio, perché ha un bilancio... La questione più importante che dovranno risolvere? Quello, naturalmente, di completare le tante cose che sono in cantiere e naturalmente, soprattutto per quanto riguarda i servizi sociali, riempire il contenitore della casa di comunità, che sarà una bella scommessa per la salute dei nostri concittadini. Bene, l'intervista completa ad Alberto Battilani, questa sera alle 21.30. Il Comune di Arcola approva il patto per la lettura. La conoscenza è un bene comune e il libro e la lettura sono strumenti insostituibili di accesso alla conoscenza. Sul sito istituzionale del Comune di Arcola è disponibile il patto e il facsimile d'adesione. Tutti gli interessati possono presentare la propria adesione entro e non oltre lunedì 12 febbraio scrivendo alla mail cultura.turismo.comune.arcola.sp.it È stato siglato un protocollo di intesa tra la Polizia di Stato e l'autorità del sistema portuale del Marligolo Orientale, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto, nella loro complessità, i sistemi informativi critici delle autorità. Vediamo il servizio di Chiara Alfonsetti, le immagini sono di Davide Morina. La Polizia Postale e Cibernetica e l'autorità di sistema portuale del Marligolo Orientale hanno sottoscritto un accordo che permetterà alla Polizia di intercettare possibili attacchi hacker al porto stesso e così aumentare le barriere difensive. Non a caso questo patto è stato siglato in una città portuale perché i più grandi flussi di dati e merci passano proprio da quello sbocco sul mare. Il patto è stato siglato questa mattina, in quest'ora alla Spezia, dal dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale per la Liguria, Alessandro Carmeli e dal presidente dell'autorità di sistema portuale del Marligore Orientale, Mario Sommariva alla presenza del prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini, del questore della Spezia Lilia Fredella e del procuratore generale della Spezia Antonio Patrono. I centri operativi di sicurezza cibernetica presenti in ogni capoluogo di regione attraverso la collaborazione con il servizio Polizia Postale riescono a intercettare e prevenire o nel caso a mitigare degli attacchi informatici ai danni di infrastrutture critiche di interesse locale. Sicuramente l'autorità di sistema portuale del Marligore Orientale è un'infrastruttura critica sensibile per la provincia della Spezia e con questo protocollo di intesa abbiamo oggi deciso di condividere le informazioni che possiamo loro fornire per prevenire questi attacchi, le procedure di intervento e ovviamente la formazione congiunta del personale che è sicuramente lo strumento che oggi abbiamo più potente per rispondere al cyber risk. L'accordo dunque cercherà di difendere su vari livelli da potenziali attacchi informatici ai danni dei porti della Spezia e Marina di Carrara. Noi con questo accordo con la Polizia Postale abbiamo voluto innalzare il nostro livello di prevenzione, di gestione degli eventuali incidenti che ci possono essere, quindi dello scambio di informazioni di dati con la Polizia Postale e poi avere la possibilità di elevare la formazione del nostro personale sulla materia, è una materia relativamente nuova ma estremamente importante perché oggi le guerre si combattono anche attraverso i sistemi informatici e il porto è una frontiera sensibile. E come ogni settimana, anche questo mercoledì, torna l'appuntamento con Possiamo aiutarvi la rubrica curata dal Comando dei Carabinieri della Spezia. Tema di questa serata l'acquisto online. Vediamo il servizio. Buonasera e bentornati alla nostra rubrica di consigli. Sono il tenente colonnello Simone Stinchi, comandante del nucleo Carabinieri CITES della Spezia. Oggi vi daremo alcuni suggerimenti per evitare di essere truffati durante gli acquisti di animali d'affezione online. Per prima cosa bisogna saper distinguere un annuncio vero da un annuncio falso. Gli annunci falsi spesso vengono pubblicati da privati che facendo leva su storie di animali maltrattati cercano di indurre la nostra pietà e quindi di indurci ad un acquisto basato sui sentimenti. Bisogna diffidare quindi degli annunci pubblicati da privati e orientarsi su quelli pubblicati da associazioni, allevatori, canili o gattili. Prima di eseguire l'acquisto bisogna sempre fissare un incontro al fine di verificare la reale esistenza dell'animale. Bisogna evitare inoltre di eseguire pagamenti anticipati e non tracciabili. Nel momento in cui l'acquirente doversi accorgersi di incorrere in una possibile truffa non deve aver timore di recedere dall'acquisto, anche se minacciato. Anzi, in quel caso è opportuno chiamare il numero unico di emergenza, il 112. In conclusione, ricordate sempre che sono numerosi gli animali che ci aspettano presso canili e gattili per essere adottati. Quindi preferite sempre rivolgervi a questi o a negozi di animali o ad allevamenti. Attenzione ad annunci pubblicati da privati, a non eseguire pagamenti anticipati senza aver prima visionato l'animale, a non acquistare in seguito le minacce ricevute e ad effettuare quindi sempre pagamenti tracciabili. Domenica nella chiesa di Nostra Signora della Salute si svolgerà l'Assemblea diocesana dell'Azione Cattolica della Spezia. Vediamo il servizio. Domenica 4 febbraio l'Assemblea diocesana dell'Azione Cattolica. Che cosa succederà? Sì, domenica alle 9 e mezza, con la presenza anche del nostro Vescovo, ci sarà l'Assemblea diocesana per il rinnovo delle cariche del Consiglio diocesano. Quindi tutti i rappresentanti delle parlò che, come Presidente della nostra associazione, sono invitati a esprimere il voto per i futuri rappresentanti del Consiglio diocesano, da cui poi nascerà la nomina del nuovo Presidente diocesano. Avremo con noi anche alcuni responsabili del settore sia regionale che nazionale, Stefano Perotto per la Regione e Maurizio Tibaldi per il Consiglio nazionale e, diciamo, come anche in segno di sinodalità. Avremo anche il Presidente del Movimento Cattolico delle Acri, Francesco Passalacqua, che ci aiuterà allo svolgimento, diciamo, della nostra Assemblea. Il luogo sarà la parrocchia di Nostra Signora della Salute in Piazza Brin e i locali adiacenti anche in termini di spazi. Un momento importante con un tema altrettanto significativo, testimoni di tutte le cose da lui compiute. Sì, testimoni perché l'azione cattolica vuole essere, e lo è già anche in maniera un po' particolare, già a partire dal segno dell'adesione, testimoni all'interno della Chiesa, in maniera anche a volte visibile, ma a volte anche, lasciate in passare il termine, invisibile, perché molte volte gli associati sono in mezzo, impastati della vita delle parloche. Quindi l'azione cattolica a volte c'è, ma non si vede. Invece a volte dobbiamo anche avere il coraggio di uscire fuori e dare una maggiore testimonianza a tutti. Ecco, un'assemblea che è aperta a tutti, non solo ai soci. Diamo anche qualche indicazione perché la possibilità di pranzare insieme esiste. Allora, certo, è prevista dalle 9.30 fino a 1, diciamo, da 1 alle 2, diciamo, una pausa a pranzo. Chi vuole partecipare anche al pranzo deve contattare la Maretta, il costo è di 15 euro e poi invece al pomeriggio dalle 14 alle 15.30 ci saranno, diciamo, le conclusioni e la dichiarazione delle persone elette nel Consiglio di Cesano. I due vincitori del concorso pianistico Concerti a Teatro del 2021, Matteo Bevilacqua e Ruben Miceli, saranno i protagonisti martedì 6 febbraio alle ore 21 del primo appuntamento al Teatro degli Impavidi di Sarzana di Concerti a Teatro. La rassegna di musica classica giunta alla undicesima edizione è promossa ed organizzata da Fondazione Cari Spezia con la direzione artistica di Miren e Xanis. Tutte le informazioni sulla stagione e il programma completo sono disponibili sul sito www.concertiateatro.it. E rinasce nel cuore di Santo Stefano la Società di Mutuo Soccorso Unione Fraterna, istituzione dall'altissimo valore e tra le poche ancora attive. Vediamo il servizio. Rinasce nel cuore di Santo Stefano Magra la Società Mutuo Soccorso Unione Fraterna, istituzione dall'altissimo valore e tra le poche ancora attive. Istituita il primo maggio del 1891, di recente si è dotata di un nuovo consiglio direttivo con l'obiettivo di rispolverare la missione originale di sostegno reciproco tra i cittadini con nuove forme di solidarietà. Le elezioni per il consiglio direttivo hanno portato cambiamenti e rinnovamento delle cariche sociali e con essi una ventata di rinnovate prospettive. È un qualcosa che è stato proprio creato dai nostri avi per garantire la solidarietà di tutta la popolazione nei tempi in cui non c'era ancora un sistema sanitario. Ora è un po' arcaico pensare a qualcosa che si occupi del welfare perché abbiamo un sistema di welfare, un sistema sanitario. Però è ancora attuale dare un bisogno alla popolazione che è un bisogno di comunità e di relazione. Accanto a lei Pia Luigi Cardelli assume il ruolo di vicepresidente, poi ancora Chiara Toracca come segretaria e Gian Paolo Stefani come vice segretario, entrambi eredi di familiari precedentemente impegnati nell'associazione. Noi quasi non sapevamo che cosa fosse la mutuo soccorso e riguardando nei documenti ci siamo resi conto che proprio la storia del nostro paese, il simbolo del nostro paese è questo palazzo. Questo palazzo che vedete alle mie spalle, che è il centro della piazza, è il cuore del paese, è un punto di riferimento e noi vogliamo che sia un posto in cui entrare, in cui ritrovarci. Infine la nomina di Luca Ruffini come cassiere di Mario Casale, Antonio Mazzoli ed Emilio Pietra come sindaci e revisori completa una squadra promettente. Domenica 24 marzo ci sarà una festa del tesseramento nell'ambito di un'iniziativa d'incontro con la comunità santo-stefanese. Vorremmo riportare per il paese a far vivere questa associazione insieme agli altri ragazzi con questa festa di tesseramento, vorremmo poi proporre nuove attività per tutto il paese cercando di coinvolgere i più giovani. Sarà un incontro culturale ma anche un'occasione di festa e di riscoperta del piacere di stare insieme. L'incontro con la delegazione cubana che il Circolo Pertini organizza sabato 3 febbraio presso il Circolo Arci Nave in via Nave a Sarzana con inizio alle ore 17.30 e dibattito sui problemi e le prospettive di Cuba alle ore 20 a Pedicena al costo di Euro 12 a persona. Apriamo adesso la pagina sportiva. Lo Spezia ha ufficializzato gli arrivi dal Pisa del terzino sinistro Roko Jureskin del centrocampista centrale Adam Nagy con la formula del prestito con diritto di riscatto anche se per il terzino croato è previsto un controriscatto da parte dei neroazzurri. Il riscatto del centrocampista ungherese è stato fissato a 1,2 milioni di euro mentre per il difensore ne serviranno 600 mila. Arriva anche il difensore argentino Gregorio Tanco che ha sottoscritto fino al 30 giugno con opzione di rinnovo per altri due anni. A meno di 24 ore dalla scadenza della sessione invernale del calciomercato tutti gli sforzi saranno ora concentrati sulla ricerca di una prima punta. A questo proposito nelle ultime ore si è fatta strada la voce di un possibile scambio con il Cittadella in un'operazione che potrebbe portare il centroavanti del Granata Filippo Pittarello allo Spezia con Mirko Antonucci, una delle grandi delusioni della stagione che farebbe così il percorso opposto in direzione del Cittadella. E passiamo ora al basket. La Tarros Spezia perde di un punto con la vicecapolista. Torna alla vittoria la cestissica Spezzina. Nella pallacanestro minore invece la Landini Lerici accede al girone di promozione. Il tutto nel servizio di Andrea Catalani. Per un punto la Tarros Spezia deve inchinarsi al Palace Sprint di fronte alla vicecapolista del girone B della serie B interregionale di basket maschile ovvero l'Empoli che si impone negli ultimi secondi di gioco per 81-80. Rammarico tra gli Spezzini pur protagonisti nel secondo tempo di una prodigiosa rimonta adesso testa alla trasferta di domenica prossima a Firenze contro quell'Olimpia Legnaia che ha gli stessi punti in classifica dei bianconeri. È stata una sconfitta un po' amara però comunque dobbiamo essere carichi a riprenderci da questa sconfitta allenarci bene ci ha penalizzato un po' tutti i tiri liberi che si sono fatti con i falli tecnici gli atti sportivi e i falli dubbi però comunque c'è stata una buona risposta della squadra una buona risposta del pubblico e diciamo che nella sconfitta c'è stato un po' di vittoria. Passando al fronte femminile torna la vittoria invece dopo cinque sconfitte consecutive la cestistica Spezzina che al Palamariotti batte il basket Roma peraltro con una prestazione convincente al di là di qualche intralcio e sempre domenica prossima ora bianconere impegnate in Lombardia contro quel Limonta Costa Masnaga che attualmente è la terza forza in quel girone A della serie 2 femminile di pallacanestro nazionale dove le ragazze di coach Corsolini sono odiernemente a metà classifica. Domenica con basket Roma è stata una partenza difficile ma si è riuscita a portarla a casa abbiamo giocato nel nostro ritmo però adesso testa la prossima che giochiamo contro Costa Masnaga che è una squadra molto forte e dobbiamo continuare a lavorare così in palestra e allenarci duramente ogni giorno. Infine uno sguardo al basket cosiddetto minore e più che altro per ricordare che la Gino Landini Lerici vittoriosa di 21 punti a Montepertico. Vediamo qui qualche immagine del match sul Valpetronio Casarza Ligure nell'ultima giornata del girone di Levante in divisione regionale 1 finendo seconda nel raggruppamento alle spalle del Tiguglio Santa Margherita si è qualificata per il girone di promozione. E per questa serata il nostro TLS giornale termina qui io vi lascio con le previsioni del tempo di limit e vi auguro un buon proseguimento di serata. Una buona serata a tutti e di nuovo ben ritrovati da Luca Mishosha di Limet. Una situazione pressoché invariata quella che si presenta in Europa con un imponente campo anticiclonico che permane sulla penisola iberica continuando a sortire i propri effetti sul comparto centro-occidentale europeo. Vediamo però in dettaglio le previsioni per domani, giovedì 1 febbraio. Al mattino cieli diffusamente nuvolosi, in particolare sulla costa per la formazione di nubi basse sul Golfo Ligure. Velato nell'interno con possibile formazione di nebbia e nubi basse su scrivi Astura e Vara. Nel pomeriggio ed in serata sereno o poco nuvoloso nell'interno, nubi più compatte invece su costa ed estremo Levante. I venti avranno caratteri di brezza, di intensità debole o al più moderata, in particolare tra Savonese e Genovesato ed estremo Ponente. Mare poco mosso ovunque. Temperature in generale aumentano i valori minimi, in leggera diminuzione in quelli massimi. Nel dettaglio, sulla costa sono previsti i valori minimi tra 7 e 12 gradi e massimi tra 10 e 14 gradi. Nell'interno, invece, minime tra meno 4 e 6 gradi e massime tra 6 e 12 gradi. Anche per questa edizione è tutto. Per avere maggiori informazioni e restare sempre aggiornati, vi consigliamo di visitare il nostro sito centrometeoligure.com e scaricare gratuitamente la nostra app di Limet. Grazie per la visione!